Gente, sto registrando, registrando Tant'arma, porcochino Ma perché? Tu hai detto una cessa Te l'ho aperta Ah, non l'ho sentito Sono cretino allora Ok, ora lutta tutta Non ne ho visto nulla Senti sto bel rumore Allora facciamo così, tutta la scala Però io mi prendo tutta la cesta Ok Wow che m... Senti una dita di nero ho trovato un'arma che inizia con la C e finisce con la cosa che uso sempre che uso sempre quando devono fare si è vero io sono il capitano quindi devo comandare io quindi vanno vabbè non ho trovato un gol tecchiano si è fumato? ricorda che io sono il capitano che ci sono io vabbè vabbè dopo lo sono io vabbè 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 il mano non è un market monarie blu che fa questo che ti faccio io non ti lamentare che è una realtà in meno questo qua vuoi una piccoletta leggendaria? è quella leggendaria, è leggendaria, è leggendaria, ma nella vita la voglio, nella vita la voglio né domani né dopodomani la voglio povero, 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 povero che lui non lo sa, questo è il cammino, togli 46, no, togli 49, poi c'è quello che è lui, mi sembra, mi sembra, e toglia, 52, dai, metti punto, c'è, volevo dire, certo me la richiesta, ma non me la richiesta perché me la salta, perché me la salta la spelly, la smutto comunque ragazzi, comunque ragazzi, spero che questo video vi piace, mi piace questa partita sta andando senza play, poi alla fine troviamo uno che c'è tutto leggendario mamma la sono buffata un botto e troviamo uno che tu perdi, mi piace, però, beh si troviamo uno, troviamo tipo power, all'improvviso, che ti schiacciata, schiacciata, e poi siamo un pochino dico che perché ti ricordi che io ti dico sempre che sono power no in questa partita no in questa partita trovo le tutte le esperienze guarda mi vuoi dare 150 di macchina aia mi sei aia mi sei aia mi sei ma quella che c'è quella che c'è quella che c'è no jafra ma ne devi dare poco perché posso poter nulla non voglio perché quando devo combattere eh però vuoi mettere però vuoi mettere una realtà 100 ma sto chiedendo tanto io dico io dico io mi passo che ho fatto così se lo rompo questo ti do una jump no 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 ti do una jump dai 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 ok ok dai dai dammi dammi l'arma potenziata e vi serve 100 di mattone 100 di mattone 100 di mattone non quello 100 di mattone guarda ce ne vedo 100 di vai no che c'è che c'è che c'è non ah ma c'è la vipretta ma c'è la vipretta ma specializzare lo scale specializzare lo scale ah dammi le jump dammi le jump dai che ho studiato i materiali dammi le jump non andiamo insif andiamo insif si sono arrivato nella gianca non mi ha preso la gianca sono molto stavo per morire stavo per morire stavo per morire stavo per morire stavo per 10 di vita non sto caduto mi pure quanto doveva bello taglione 4 da anni un sorpreso fra mi siano abbrugata ottimo di vedere del video avete visto ragazzi quanta specie nella vita grazie ma si è identico al verde non vero si dai è molto più forte più o meno piacevola viola grazie del 10 di scudo è del 4 di vita c'è ma tu ti rendi conto lo facevi due muri in più due scale in più ero morto fra guarda come modifico c'è una pietra forma vedo un modifico no guarda è vero grazie ma stiamo nella visione no che facciamo fortini facciamo fortini mi sto fermando della verità mi serve solo legno 100 bambina adesso è 169 non so che sono non so che sono non so che sono non so ma sono un fintore dai si chiede lì ma siamo seri? secondo me non siamo seri? ma siamo pigri ma io pochissima lena ho giusto 179 ma è scomparso l'albero di fronte a me ok questo gioco è normale prima sto per morire dalla giampa ora mi vedo nasconde nasconde c'è che sparisce io dico come è possibile e non lo spanchi è chiesto Twitch non. i'acchia Falle l'agga Vampire non è spesso st'oc uso struisco st'occhio 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 raga ci facciamo la tavola hai troppo il mio no fra quando qualcuno si avvicina non la vediamo siamo noi contro l'oro almeno una chino la voglio ma pensa tra l'altro è morto un tizio non me l'ha data la chino ma l'ha data la chino è preso inglese così c'hanno ti ricordi quella partita 13 kg avevo vinto da sola mi sa che te la ricordi faccio la stessa cosa è nato il mio che è brutto spavone dai non ti sto sentito fai ori figlio vieni la nascita vieni la nascita dai fra soffritta soffritta come le fotte vieni vieni la nascita 24 di vita fra non ti incazza ecco non fare nulla te la prendo la schiena te la prendo la schiena ah vero la ultima stessa la possiamo vincere la possiamo vincere uno più uno sto solo con quel tizio che spammone ragazzi il video che si finisce qui è bello